Con la conclusione dei lavori saranno nove le fermate urbane che interesseranno il quartiere San Paolo, avvicinandolo in qualche modo alla città e rendendolo dunque meno periferico. Proseguono dunque a tamburo battente i lavori che prolungheranno il collegamento ferroviario tra la stazione di Bari centrale delle ferrovie del nord barese e il quartiere San Paolo, arricchendolo con ulteriori due fermate. Il punto sullo stato dell'arte è stato fatto questa mattina in occasione di una visita al cantiere della prima fermata denominata Sicilia a cui hanno preso parte l'assessore ai trasporti della regione Puglia Giovanni Giannini, il sindaco di Bari Antonio De Caro e il direttore generale della ferro tranviaria SPA l'ingegner Massimo Nitti. La nuova stazione sarà in prosecuzione dell'attuale linea ferroviaria metropolitana che collega Bari centrale con la fermata ospedale e consentirà tra l'altro di ottimizzare il servizio con l'ospedale regionale San Paolo polo ospedaliero di riferimento per l'area di intervento. I lavori di prolungamento che interessano un tracciato lungo circa 1,5 km sono divisi in due lotti funzionali. Il primo di circa 600 metri prevede l'allungamento della linea in galleria e la realizzazione di una nuova fermata intermedia attraverso la realizzazione di un tratto interrato che parte dalla fermata ospedale e termina con la fermata Sicilia. Attualmente nel cantiere del primo lotto in stato avanzato di realizzazione è stata completata la galleria artificiale con la demolizione dell'ultimo diaframma che divide la nuova tratta ospedale Sicilia da quella in esercizio Bari ospedale. Sono in corso di realizzazione le opere relative alla nuova stazione di Sicilia, le finiture architettoniche, gli impianti e l'armamento ferroviario. Il termine dei lavori è previsto a gennaio 2015. Nei mesi successivi si passerà all'attivazione dell'esercizio.